Buongiorno a tutti da Gioch65 quindi oggi 17 marzo è ufficiale che l'europeo di calcio itinerante perché ormai le varie baracconate e nessuno se le vuole assorbire da solo l'europeo di calcio 2020 salta e quindi va all'estate 2021 con tutti annessi i vari casini che comporterà e quindi il mio pensiero premessa che credo sarà molto difficile completare i vari campionati delle varie nazioni sono convinto che l'UEFA darà la sua direttiva di congelare i campionati e di far vincere la squadra che era in testa quando il campionato è stato interrotto quindi con buona pace di tutti quelli a cui qua in Italia dà fastidio che purtroppo ci sia la Juve prima in classifica perché sarebbe stato benissimo se ci fosse stata l'Inter che non vince da dieci anni degli amici cinesi o la Lazio di Lutito innanzitutto questa cosa mi è stata molto utile molto utile è stata molto utile perché per anni al tifoso giuventino era sempre stata rinfacciata la famosa coppa dell'Eisel la famosa coppa dell'Eisel avete vinto con i morti avete vinto col sangue avete festeggiato premessa premessa è stato un'altra cosa per me che l'ho vissuta intanto la Juventus non hanno regalato la coppa la Juventus poi l'ha vinta sul campo il come il quando il perché non conta la Juventus va vinta perché se parliamo di rigore di buoni fuori area possiamo parlare delle mille sviste nelle finali contro la Juventus che forse ci avrebbero fatto vincere qualche coppa dei campioni in più quindi per una volta una svista me la prendo quindi quella Juve, quella Coppa, l'ha vinta che poi si sia festeggiata malissimo e un altro paio di maniche mi è servita a capire una cosa che quest'anno nonostante 85 2020 35 anni di paternali da parte di soloni tifosi di altre squadre che facevano la morale ho visto che comunque gli scudetti di carta sono ben accetti anche arrivando terzi senza che nessuno avesse detto che lo scudetto dovesse essere per forza assegnato perché il fatto che l'UEFA abbia chiesto che quel famoso scudetto fosse assegnato una balla, l'hanno assegnato in Italia andando contro alle direttive che avevano detto che a loro bastavano i posti Champions Comunque andiamo avanti Calciopoli ormai è stata metabolizzata purtroppo quest'anno si è visto chiunque avrebbe fatto chiunque farebbe carte false per farsi un playoff magari con 20 punti in meno con due sconfitte andate e ritorno tipo Inter o dietro tipo Lazio quindi cosa significa tutto questo? Qualcuno addirittura ha sentito dire ha proposto playoff a 8 a 12 squadre quindi follia pura follia pura la dimostrazione è che fare la morale agli altri per uno scudetto per una coppa vinta manco la Juventus avesse generato i casini che poi sono stati generati dai tifosi inglesi nell'85 ma quest'anno chiunque ha allungato l'artiglio per cercare di prendere uno scudetto causa virus premessa non è una colpa vincere uno scudetto in queste condizioni ma è la dimostrazione della incoerenza e della stupidità umana del criticare gli altri quando fanno le cose quando tu saresti disposto a fare ben peggio perché ci sono squadre che reclamano scudetti per cui pendono sentenze anni 40 anni 50 o ante guerra e pretendono quegli scudetti di cose che ormai non si sa neanche bene come siano andate e io ribadisco mentre la Juventus ha uno scudetto 1908 1909 su cui non pende nessuna alone di mistero e non sono stati mai misteriosamente non sono stati mai assegnati quindi l'importante è rompere sempre i coglioni la Juve comunque alla fine la Juve vi arriva sempre davanti anche nell'anno del virus vedremo che cosa si inventerà la FIGC per me se riescono a finire il campionato ben venga credo sia molto difficile nel caso la squadra che potrebbe lamentarsi è la Lazio degli altri nessuno nel caso frizzano i campionati con le classifiche intorno la Juventus l'ha vinto meritatamente avendo anche lo scontro diretto con la Lazio in casa e non è un dettaglio un saluto da Juve 65 5